Hello ragazzi, ciao a tutti e tre e ben tornati qua sulla NickCraft Ragazzi, come penso avete letto dal titolo di questo video Ho finalmente aggiunto la bomba di carburante E naturalmente adesso i mezzi vanno a carburante E non solo, raga, ho fatto anche un altro paio di cosette Allora, che stavo a dire, raga La lana non c'è basta Ce ne vogliono 8 per colorarla Perché dobbiamo metterla a cosi E' così Bene, lana rossa Poi ragazzi vi stavo a dire Quindi dobbiamo fare in questo modo Poi ci vuole del vetro, credo qua sopra Della redstone Forse qua, non ricordo E poi ferro Eccolo qua, pompa del carburante A posto, raga Ovviamente la pompa funziona sempre con la carta prepagata Ok Andiamo Allora, mo' la pompa, raga Io l'ho praticamente creata in modo tale Che il prezzo è variabile Difatti Adesso io la metto qua Ma teoricamente In fattoria Qui a casa nostra Il prezzo è più alto Ora uno mi dirà Nicchia, ma come fa a capire la pompa che l'hai piazzata vicino a casa? Io ragazzi ho configurato questa pompa in modo tale che controlla certe cose La pompa controlla la presenza di questo La presenza di questo Controlla la presenza di polli Presenza di pecore Controlla la presenza di porte Controlla la presenza di mezzi Controlla queste cose Se vede che ci stanno queste cose Capisce che si trova in fattoria E quindi il prezzo è più alto Quindi Più avanti Dovrò creare una stazione di servizio Lontana da pecore Insomma da tutto quello che fa Che forma una fattoria Ecco Ok Quindi la pompa la mettiamo Qua Allora guardate Dice Mazza 3,37 Il prezzo minimo Come potete leggere lì sotto È di un euro Ma la pompa ha calcolato Che qui abbiamo un mucchio di cose E quindi il prezzo È di 3,37 Come potete notare La pompa Ha il prezzo stampato Proprio Sulla Sulla pompa Sullo schermo Quindi È una cosa in più Che ho imparato Raga E così non c'è Da impazzire per capire Qual è il prezzo Basta guardare Il prezzo si auto Aggiorna appunto In base alle cose Che abbiamo qui Teoricamente Ve lo faccio rivedere Io la piazzo E per circa Mezzo seconda Il prezzo è di un euro Che è il prezzo minimo Ma vi faccio vedere Che si aggiorna Visto? Fa il calcolo E capisce Che il prezzo È questo Quindi perché Vi stavo a dire Che vede le pecore Vede le galline Vede questo Vede questo E quindi il prezzo È elevato Se la pompa La andiamo a piazzare Per esempio Ci facciamo un attimo Tanto per farvi vedere Che il prezzo varia Ci allontaniamo Dobbiamo allontanarci Di almeno Cento blocchi Per non Rilevare Diciamo Pecore Cose varie Beh poi chiaramente Ci sono le pecore Selvatiche Quello ovviamente Le vede Però il prezzo Sicuramente è molto Più basso Della mia fattoria Quindi mo tipo La piazzo qua Vediamo il prezzo 1,24 Visto? Ora quasi quasi Sapete che faccio? Compro un po' di carburante Perché lo compriamo A un prezzo Più basso Anzi Pichiamo questa Guardate 3.750 Compro 3.704 E qualcosa Ovviamente Abbiamo speso 1,24 euro Compriamo Non lo so Una quarantina Ogni tannica E un litro Quindi 40 litri Di benzina Beh di carburante Chiamiamolo così E mo Lo spostiamo Oh cavolo Sta pure a far notte Quindi In futuro Tra non molto Sicuramente Ma comunque Mi serve una strada E me il problema Quello è Ma tra non molto Raga Dovrò creare Una stazione Di servizio Perché in fattoria Per l'appunto Il prezzo Sarà elevato In fattoria In fattoria Diciamo che Teniamo questa pompa Come emergenza Nel caso Non ho alternativa Nel caso Mi serve un po' Di carburante Visto Nel caso Mi serve Del carburante Immediato Faccio il pieno Qua Ma ovviamente Metteremo Una stazione Di servizio Da qualche parte Per risparmiare Sul carburante E Ho imparato A farla Vabbè Che comunque Più o meno Funziona Come a quella Che c'è Sulla pompa Di carburante Guardate Mo giù A destra Vedete Segna Il carburante Attuale Zero Il motore È acceso Però Guardate La trebbia Si sposta Ma Alla velocità Della lumaca Perché manca Il carburante Allora Come faccio A inserire Il carburante Apro L'inventario Inserisco Le taniche Mettiamo Le altre 20 taniche Qua dentro Perché anche Qua c'è Zero Mettiamo Le taniche Qua dentro Mentre invece Il trattore Ha già Del carburante È già Al massimo Non lo so Questa cosa È perché All'inizio Ho fatto Le impostazioni Un po' Diverse Nei mezzi Comunque Qua Questo Già Parte Col carburante A 60 litri Che è il massimo Mentre le trebbie Credo che hanno Un massimo Di 600 litri Se non ricordo male Come potete vedere C'è anche L'indicatore Del Del Rimorchio Ci dice anche Quanto Quanta roba C'è nel rimorchio Molto utile No Allora Quindi Come potete vedere Il carburante Ancora Non l'ha preso Lo prende Quando noi Saliamo sul mezzo Guardate Eccolo là 20 litri E mo La trebbia È veloce La trebbia Ovviamente Consuma più carburante Del trattore Raga Ovvio Che consuma Di più Allora Quindi Come avete visto Ci stanno anche Altre icone No C'è Quell'icona Che vedete Sotto al carburante È l'icona Del Del serbatoio Della trebbia Cioè Man mano Che raccogliamo Frumento Aumenta Appunto Aumenta L'indicatore Allora Quindi che fanno Raga Seminiamo Seminiamo Ci facciamo Una bella semina Quindi Piamo uno stick Togliamo Il cassone E ci dobbiamo Mettere La seminatrice Un'altra cosa Ragazzi Che ho fatto Un'altra cosa Che ho fatto E che adesso Se colpisco La trebbia Non la distruggo Non è più possibile Distruggere i mezzi Perché Perché Quando uno Mette un mezzo Ti dà Il mezzo Ha già Il carburante Ti dà già Un minimo di carburante Lo dà già Quindi se uno Distrugge il mezzo E poi lo ripiazza Si ritrova Col carburante Dentro A meno che Non faccio Come certi oggetti Che quando Li distruggi Ti dice Che tipo questo No lo distrugge Ti dice che C'ha 34 Su 256 Ma questa cosa Ancora non la so fare E quindi ho deciso Che i mezzi Non si possono distruggere Per non avere Carburante A gratis Quindi Qua dentro Dovrei avere L'asseminatrice E questo spargi Fertilizzante Andiamo quindi A piazzare L'asseminatrice E ci facciamo Una bella Asseminata Dobbiamo naturalmente Comprare Dobbiamo comprare I semi Quindi Ora non ricordo Come si faceva Credo che si faceva Così Sì Ok Compriamo Tanti semi Quindi Quindi inseriamo I semi All'interno Del Trattore Anzi Vi faccio vedere Un'altra cosa Già che ci sto Montiamo L'asseminatrice Guardate Il simbolo Adesso è cambiato Il simbolo Non è più Il simbolo Del Rimorchio Ma c'è il simbolo Di quello Dei semi Attualmente Vedete Ci dice Che attualmente Abbiamo selezionato Come seme Il grano Ma Ora non ricordo Qual è il tasto Eccolo Adesso ci dice Che abbiamo selezionato Il seme Del mais Allora Inseriamo I semi Inseriamo Raga I semi Mettiamoli tutti Allora Questo non mi serve Più E ora Vi faccio vedere Che la seminatrice Ci dice Che abbiamo Il 59,3 Per cento Di semi Allora Il trattore Consuma più carburante Quando accendiamo La seminatrice Cioè Quando il mezzo Lavora Consuma Credo Il doppio Allora Vediamo un po' Qual è il tasto Seminatrice Accesa Guardate Il livello Dei semi Che scende 53 Per cento Vi piace Raga Me lo merito Un pollicione Per questa cosa Non è stato Facile Perché Da quando è Che non aggiorno La mod Da Da un bel po' Da veramente Un bel po' Di settimane Ci ho perso Un bel po' Di tempo E mo' Ragazzi Dice Tutto 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 Vedete che Il carburante Scende Ovviamente Possiamo fare Il pieno Al Al mezzo Passando vicino Al Alla pompa Di carburante Non è che devo Comprare il carburante Come ho fatto Prima Basta Avvicinarsi Alla Alla pompa E automaticamente Fa il pieno Tra un attimo Vi faccio Ah ecco Abbiamo finito Ferma un po' Qual è il tasto Qua sbaglio Ecco Allora Vedete che Abbiamo seminato Non poco Ovviamente Se inseriamo Dentro Semi Più Semi Normali Li conta Insieme Se ci mettiamo I semi Classici Qua dentro Lui li conta Ora i semi Classici Sono praticamente Beh Quelli No Quelli Un attimino Che vi faccio Vedere Quali sono Vabbè Lo sapete Quali sono I semi Classici Però Giusto Per farvi Un attimo Capire Allora I semi Classici Ovviamente Sono questi Se li inseriamo Dentro al trattore Li conteggia Insieme Ai semi Comprati Non c'è differenza Ovviamente Però non li conteggia Con i semi Di questo tipo Sono semi Diversi Quindi Se io li metto Dentro Guardate 0,5% Se io ci metto Dentro Anche questi E Switchiamo 0,1 Visto Ovviamente Capisce La differenza Tra i semi Non c'è problema Allora Avviciniamoci Alla pompa E ovviamente Paghiamo Un mucchio di soldi Il carburante Perché costa 3 euro Al litro Ma guardate Fatto Ok Non fa il pieno Fino al 60 Però comunque Almeno 59 litri E passa Lo fa Questo perché Perché comunque Non vende Meno di un litro Non vende Meno di un litro Per questo motivo Ok Quindi Non c'è problema Anzi Mo vi faccio vedere Che facciamo un po' Il pieno Anche Alla seminatrice Allora Anzi Vi faccio vedere Sta cosa Mettiamo dentro Questo 0,1 Per cento Andiamo a fare Il pieno Beh pieno No perché costa Un mucchio di soldi Il carburante Comunque Comunque intenzione In futuro Penso proprio Che inserisco Il serbatoio Così che andiamo A fare Il pieno Di carburante Con Con il trattore Col serbatoio E portiamo Il carburante Qui in farm Sta cosa La devo ovviamente Fare Comunque Vi faccio vedere Sentite E guardate Come vanno Via i soldi Ok Basta così Che costa un mucchio di soldi Il carburante 3 euro Veramente È un prezzo Parecchio elevato Però ci sta Ci sta Perché Se no uno Poi Tiene tutto in farm E così Si perde il gusto No Si perde il gusto Se tieni tutto in farm Ed è tutto così facile Non è giusto Allora Rimuoviamo La seminatrice Per ora Funziona sempre con lo stick Poi in futuro Vediamo Mettiamo Questo spargifertilizzante E mo ovviamente cambia Mo il simbolino è cambiato Ci abbiamo il simbolo Del fertilizzante Allora Beh per ora Per ora Semi e fertilizzante Si comprano in questo modo Poi non lo so Forse se in futuro Faccio come Col carburante Non lo so Ma per ora Funziona Così Ok Ne ho comprato troppo Oh Penso che può andar bene Ok Questo e questo Lo mettiamo qua dentro Bene Quindi mo Usiamo naturalmente Il fertilizzante Per far crescere Immediatamente Il raccolto Altrimenti possiamo Anche aspettare E basta Quindi inseriamo Il fertilizzante E ci dice Che abbiamo Il 59,3% Di fertilizzante Sta per arrivare La notte Comunque Vabbè dai Spaggi fertilizzante Acceso E come potete Notare Il raccolto Cresce Prima che Mi butto di sotto Devo stare attento Però E in questo modo Raga Il raccolto È subito pronto E Tramite L'icona A destra Riusciamo a capire Quanto 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 Fertilizzante È rimasto Ovviamente All'interno Del Dello Spargi Fertilizzante Ok Andiamo A dormire Prima che I mostri Ci assaltano Ok Il trattore Però Lo parcheggio Qua Ah ma Stavo Dimenticando Un'altra Cosa Importante Ma un'altra Cosa Che mi chiedete Da un bel po' Di tempo E vi ho detto Aspettate Che Aspettate Che prima Devo fare altre cose Ho trovato Un po' Di tempo Raga E ho sistemato Un'altra Questione Ho sistemato Il robot Guardate Un po' Raga Io ho fatto L'inventario Ma quindi Gli oggetti Lui li raccoglie Non li distrugge Immediatamente Guardate Eccoli qua Cobblestone Allora Come potete leggere Shift Più Click Destro Per svuotare Il cestino Diciamo Quindi Mo' Vi faccio Vedere Butto La terra Allora Qua c'è La terra Shift Destro La terra Non c'è più Se il cestino È pieno Ovviamente Il robot Non funziona Non Non parte Se è pieno Non pulisce Ovviamente Allora Grande richiesta Di mais Peccato che io Peccato che io Ho seminato Grano Quindi Ci siamo rimasti Un po' fregati Ma fa niente Fa niente Sarà per un'altra Volta Purtroppo Ci stanno Un paio Di cose cattive Accidenti Ci stanno Un paio Di problemi Sotto Ai miei Mezzi A posto Ok Un problema E meno Quindi Ragà Mo' Che famo Oh Questo Mi scoccia Pure Ok Quindi Ragà Raccogliamo Dai Raccogliamo Lavoriamo Anche perché Mo' Consumiamo Carburante Quindi Non vale la pena Stare qua sopra A tempo perso E si parte Guardate Lì A destra Che ci dice L'attuale livello Del serbatoio Della Mietitrebbia Così ragazzi Sappiamo Quando Abbiamo Raccolto Al 100% Ovviamente Se All'interno Dell'inventario Della trebbia Abbiamo Vari oggetti Il 100% Non lo raggiungiamo Mai Ovviamente Il 100% Lo raggiungiamo Solo se Soltanto Se Non abbiamo L'inventario Della trebbia Pieno Al 100% Ma Ah Pensavo Che mancava La porta Là sotto Ok Guardate La raga 40% Di raccolto Ovviamente Il carburante Scende in fretta Perché Come vi dicevo Consumiamo Almeno Il doppio Quando Lavoriamo Con i mezzi Però Dai Che ci vuole Ah A farsela A farsela Una trebbiata Non ci vuole Niente Eccola Spenghi Ok Rimasto qualcosa Che ovviamente Non ho Diciamo Fertilizzato Comunque Abbiamo Il 55% Del raccolto Ora O scarico Il raccolto Sul Trattore Oppure Vado direttamente A scaricarlo Sul silos Lo possiamo Fare pure Allora Qual era il tasto Per aprire il tubo Che mo Non ricordo Credo Che era Questo No Ah Questa è una cosa Che dovrei Fixare Comincia a Scaricare Prima del Tempo Beh C'è qualcosina Che dovrei Fixare Raga Comunque Vabbè Comincia a Scaricare Prima del Tempo Purtroppo Devo Fixare Questa Cosa Dovrò Fixare Questa Cosa Comunque Come possiamo Notare Stiamo Scaricando Direttamente Nel Silos Solo Che non Prende Proprio Tutto 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 Perché Non c'è Proprio Spazio Buono Buono Tra Il Insomma Tra un pezzo Di legno All'altro E' mica Tanto bene Cavolo Non lo sta Pia come si deve No Proprio Dobbiamo Fixare Questi Dovrò Fixare Proprio Questi Bastoni Qua Chiamiamoli Così Questo Legno Perché Non aspira Accidenti Non sta Proprio Aspirando Dobbiamo Fixare Questa Cosa Comunque Vabbè Facciamo così E inserisco Subito Dentro Quindi C'è poco Spazio E non Passa Che Gran Bel Peccato Va bene Scarichiamo All'interno In modo Manuale La Devo Proprio Fixare Quando Abbiamo Mo 29 Stack Raga Quasi 30 Stack Di Di Grano 1897 Di Quando C'è La Grande Richiesta Vale Almeno Un Euro Ogni Pezzo Quindi Abbiamo Tivi Diciamo Circa 2000 Euro Di Grano Attualmente All'interno Del Silos Allora Quindi C'è Sto Problemino Qua Che Da Risolvere Accidenti Vediamo Se Le Cose Riescono A Passare Meglio Adesso Con Questo Blocco Più Piccolo Perché Rimane In Qualche Modo Incastrato Vediamo Mica Tanto No Beh Più O Meno Forse Mi Conviene Lasciare Vuoto Il Blocco Centrale Beh Sicuramente In Questo Modo Passa Meglio In Questo Modo Passa Sicuramente Meglio Certo E' Poco Bello Lasciare Il Blocco Centrale Vuoto Ma Almeno Le cose Passano Di Sicuro Perché Tipo Se io Queste cose Le mollo Qua Lui Le Aspira Ecco Con Il Blocco Centrale Libero Va Molto Meglio Così Riesce A Prenderle Ok Non C'è Alternativa Facciamo Così Quindi Qua Sopra C'è Il Pollaio Eccolo Qua Perfetto Allora Mettiamo Lineport Bus E Scendiamo Oh Precisi Precisi Quindi Teoricamente Stiamo Aspirando Tutto Teoricamente Adesso Stiamo Aspirando Le uova Teoricamente Dovrebbe Funzionare Perché Eccolo Eccoli Qua Ci stanno A mettere Un po' Di tempo Ma Eccoli Che Arrivano Ok A posto A posto Ovviamente Rimarrà In quel Modo Ma Non Mi Interessa Allora Storage Monitor Lo mettiamo Qua Questo Qua Ok Ok Raga Mettiamo L'uovo Ecco 38 Uova E con Questo Sono 39 Più Un altro 40 Teorie Eccoli La 40 Uova Comodo No Raga Così Sappiamo Sempre Quante Uova Abbiamo E Quindi Mole Aspira In Modo Automatico Dovrò Mettere Una Carta Per Ampliare Le cose Che Può Aspirare Questo Import Allora Capacity Card Ci Mettiamo Questo E Mo Togliti Di Qua Togliti Di Qua Onda Zarda Ok Quindi Mo Ragazzi Aspira Sia I Polli E Anche Le Piume Rimane Solo Il Cibo Qui A Marcire Ma Non Mi Interessa Tanto Il Cibo Occupa Poco E Marcisce Lo Stesso Ok Così Io Praticamente Qua Dentro Ci Posso Mettere I Semi Che Con I Semi Come Ben Sapete Ci Facciamo Nascere Le Vi Lasciate Un Mi Mi Piace Ci Becchiamo Presto Ragazzi Ciao Alla Prossima Com стан Stefan Orane Kan Ami Cal Que Hay H Que Hay 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 seine